Ed ora andiamo all'Università di Berkeley in California dove hanno messo a punto una nuova tecnica per stampare in 3D. Usa la luce per creare oggetti solidi partendo da un liquido. Silvia Rosa Brusini. L'hanno chiamato replicatore come lo strumento che in Star Trek materializzava qualunque oggetto su richiesta. Questo dell'Università di Berkeley crea oggetti più morbidi e flessibili di quanti escano dalle varie tipologie di stampanti in 3D. strato per strato. La nuova stampante parte da un liquido viscoso che reagisce a determinati livelli di luce formando un solido. Si proietta un film di luce su un cilindro rotante e il liquido solidifica. Detto così è semplice ma le novità sono tante in un'invenzione sola. La struttura in movimento della luce, la formulazione delle varie resine, polimeri liquidi con molecole fotosensibili e ossigeno disciolti. Il modo con cui si creano al computer le immagini da proiettare nel liquido. La tecnica dell'Università di Berkeley produce oggetti riciclabili al 100%.